Mercoledì 24 agosto al campo Santa Maria di Nives di Schiavonea, alle ore 18 ci sarà uno stage selettivo. Sì, abbiamo iniziato una nuova stagione e mercoledì faremo questo raduno per i ragazzi allievi e giovanissimi. Quindi mercoledì alle ore 18 qua al campo sportivo Maria di Nives, noi siamo qua ad aspettare i ragazzi che hanno voglia di fare qualcosa, di unirsi alla famiglia del Forza Ragazzi. Quindi mercoledì alle ore 18 qua al campo sportivo Maria di Nives, Forza Ragazzi, Rino Gattuso. Come si articolerà la giornata di mercoledì? Intanto, devo dire che il calcio innanzitutto è un gioco e crescendo vedo che si perde questo spirito. Il nostro ruolo ci impone di far appassionare i ragazzi, qualsiasi sia l'età e qualsiasi la categoria che loro affrontano, anche con gli adulti. Quindi dobbiamo stare attenti nel fare le valutazioni, perché le valutazioni sul singolo ragazzo devono essere fatte molto attentamente per non rischiare di cadere in giudizi che col tempo potrebbero essere del tutto errati. Quindi con i ragazzi bisogna andarci cauto e senza illudere e dire che abbiamo un fenomeno, abbiamo un brocco. I ragazzi sono tutti bravi, poi dipende da noi e dai lavori. Quindi ogni ragazzo al termine della stagione deve essere migliorato, non solo sulla struttura tecnica, ma anche sulla struttura tattica, fisica e mentale. Personalmente sono a Forza Ragazzi da circa 10 anni, 11 anni. Ho avuto 500-600 ragazzi, genitori e in questi 10 anni se ho avuto 5-6 incomprensioni con i ragazzi e i genitori è pure tanto, perché abbiamo fatto dell'onestà, della sincerità, della professionalità il nostro forte. Quindi noi non illudiamo i genitori che vanno a lavorare, chi fa l'operaio, chi fa altri lavori. Dopo un giorno di sacrificio vengono al campo e noi a detti ai lavori illudiamo i genitori dicendo che c'è un fenomeno o meno. Dobbiamo stare attenti in questi giudizi qua. Noi come società del Forza Ragazzi abbiamo un superpresidente che è Rino Gattuso, non è uno qualsiasi. Quindi Rino Gattuso che è l'allenatore del Valencia, campione del mondo. Abbiamo un presidente come Valentino Guerriero, Salvatore Pipieri, che è il meglio. E poi senza falsi qua c'è il migliore pure. Quindi siamo qua ad aspettare i ragazzi per fare bene e per dargli un qualcosa. E noi quando abbiamo fatto siamo stati campioni regionali con le allievi elite. Quindi qualche cosa abbiamo pure fatto. Non abbiamo mandato i ragazzi in Serie A, questo sicuramente. Però siamo stati sempre onesti, sinceri e professionali. Quindi noi siamo qua che aspettiamo i ragazzi che hanno voglia per cercare di stare assieme e di fare bene. Quindi se voti il meglio è qua, se voti il migliore è pure qua. Grazie a tutti.